bella a tutti ragazzi bella a tutti è caldo tanto caldo 40 gradi credo ciao come state mi si vede sempre poco in video perché non perché sono sfuggente ma perché sono un pirla però ecco ci tenevo a fare questo piccolo video con tanta barba per farvi sapere che non sono sparito e che il progetto dell'album è pieno è ormai strafinito nel senso che mi ero fermato cioè nel senso non mi ero fermato avevo finito l'album però ovviamente non poteva uscire subito perché ci vuole tutta la parte burocratica e tutta la fila e strafila di roba prima che esca un album e cos'altro stiamo lavorando ai video ai mini video prima dell'uscita dell'album vi posso annunciare con certezza che uscirà comunque dopo le vacanze quindi andate pure al mare tranquilli anche se sicuramente andavate al mare tranquilli comunque andate al mare tranquilli e a ritorno ci saranno grosse zanzare che mi stanno mangiando ci saranno grosse grosse novità insomma l'album finalmente esce e vi svelo però che uscirà prima un singolo dell'album si è scelto insieme al team dell'uscita dell'album Paul e chi c'è dietro abbiamo scelto un singolo quindi uscirò con quello prima e a seguire lo scoprirete c'ho veramente un sacco di barba troppa per i miei gusti no invece mi piace e quindi niente ragazzi buone feste buone buone feste buone vacanze buone vacanze ci vediamo a settembre da villa clara e tutto bologna e chi è di bologna sa di cosa sto parlando guardate detto ciò vi abbraccio forte vi voglio davvero bene perché grazie a voi ho ancora voglia di fare a settembre ragazzi ciao